Allora, grazie, buongiorno a tutti. Io ho l'onore di portare, diciamo, di aprire questa seconda giornata dei lavori di, diciamo, di questo numero uno, anzi numero zero del Festival del Mare, che, come dire, è nato da un'idea felice di Nicola Piepoli e che tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare di nuovo e che noi, come dire, con grande opportunismo abbiamo deciso di ospitare e di accogliere in questa nostra sede. Ieri abbiamo sentito degli interventi molto interessanti, è stata una giornata ricca di spunti, quindi per noi oggi sarà difficile, però sicuramente ci riusciremo, come dire, a bissare il successo di ieri. Oggi è la giornata, forse, dei contenuti. Il mare è una grande sfida. Noi ci troviamo, lo dico soprattutto ai ragazzi che vedo qui, molti giovani, che hanno attraversato già diverse ore, che attraversano mezzo Lazio, perché se venite da Bassano, non so, non è proprio qui vicino. Anche se noi nel Lazio abbiamo, come dire, sperimentato la relatività del tempo, nel senso che spesso uno rimane a un'ora da Roma anche dopo due o tre ore, quindi il relativismo è diventato, siamo riusciti ad applicarlo come legge fisica. Ma al di là di questa piccola battuta, noi ci troviamo in un posto che ha una sua storia, poi casomai vedo qui molti dei miei collaboratori, colgo l'occasione per ringraziarli e per scusarmi con loro se dirò cose che hanno già sentito tantissime altre volte. Però noi qui dietro abbiamo un piccolo video che abbiamo organizzato che racconta un po' la storia di questo edificio, di questo palazzo, di questo luogo. Credetemi, è una suona molto lunga che io per ragioni di sintesi adesso purtroppo devo saltare rapidissimamente, però come dire, vedo qui Luisa, Maria, se poi avete, diciamo, 20 minuti di tempo, vi consiglio di vederlo. E qui dietro ovviamente, sicuramente da poco abbiamo introdotto un piccolo ticket, ovviamente, diciamo gratuitamente, solo come indennizzo per il fatto che mi devono ascoltare, insomma, già questo è un elemento importante. E che dire sul mare? Ecco, intanto siamo in questo luogo particolare che ci ispira anche un po' il genio seloci, che ci dà qualche fonte di ispirazione per discussione che dovremmo fare oggi sull'importanza del mare. Sapete, i romani, noi abbiamo, viviamo, diciamo, due o tre grandi equivoci di fondo. Uno degli equivoci di fondo è che i romani non fossero capaci ad andare per mare. Questo ovviamente non è vero. I romani erano, anzi è stato il primo grande impero, diciamo, tra virgolette, sul mare. Era una talassocrazia? Cioè, in realtà, l'impero romano nasce nel momento in cui controlla il mare dell'epoca, che era il mar Mediterraneo. Altri mari non esistevano, semplicemente. Quando c'è il controllo del mare nasce quello che noi conosciamo per essere l'impero romano. In realtà nacque molto prima, era ancora il periodo repubblicano, nacque quando c'è lo scontro, forse è stata la prima grande guerra mondiale, quelle che noi abbiamo studiato a scuola come le guerre puniche, le tre guerre puniche sono state tre guerre mondiali. In quel momento nessuna nazione al mondo rimase a guardare. Tutti si schierarono o con Roma o con Cartagine. Non c'era un'alternativa. Le due grandi potenze dell'epoca, tramontata quella macedone, si contendevano il mondo. E se lo contendevano controllando il mare. Perché si può essere impero solo se si controlla il mare. L'altro mito che andava da sfatare, che dobbiamo sfatare, è che i romani non lavoravano. Un mito che continua ancora oggi, da questo punto di vista. In realtà i romani, per il livello di tecnologia che avevano all'epoca, tra l'altro rispetto ai greci, fecero proprio un piccolo passo indietro, dal punto di vista delle competenze e delle capacità tecnologiche, per tenere in piedi un'organizzazione, un impero di quel tipo, come dire, lavoravano molto, lavoravano tanto. Basti pensare, se voi andate a Ostia, quello che ieri abbiamo ricordato, la città di Ostia, gli scavi di Ostia Antica, troverete, in particolare, il piazzale delle corporazioni, dove lì c'è proprio la testimonianza del lavoro enorme che facevano per mantenere un sistema, ad esempio una città che all'epoca sforzava una metropoli di oltre un milione di abitanti. Pensate solo in termini di cereali e di legname che serviva ogni giorno per sfamare e riscaldare un milione di persone. Con il livello tecnologico dell'epoca, una grandissima organizzazione e soprattutto una grande organizzazione su divisione del lavoro, cioè la prima forma di suddivisione del lavoro, la prima forma di specializzazione economica, con zone che facevano soltanto alcune cose, e che ancora oggi lo fanno, quindi è rimasto anche nel tempo. Il secondo elemento è che i romani non fossero capaci ad andare per mare. Questo è un grande, purtroppo, falso storico che va sfatato. Roma diventa un imperno nel momento in cui controlla il mare. C'è in questo momento al cinema un film bellissimo che è il Napoleone di Rita Scott, un po' deludente, devo dire, rispetto ai film che fa Rita Scott. E, come dire, Napoleone è conosciuto come un grande imperatore. In realtà gli imperi, il dominio, un vero impero, c'è nel momento in cui controlla il mare. I veri grandi imperi, l'Inghilterra era un impero. Oggi gli Stati Uniti controllano tutti gli istrimi e tutti gli stretti e sono un impero, nel senso che è un'accezione positiva, non è un'accezione negativa. Chi non controlla il mare, chi non ha una proiezione marittima, è destinato, prima o poi, a perdere. Perché Pietro il Grande, lo zar delle Russie, è chiamato appunto il Grande? Perché ebbe l'intuizione di capire che la vocazione imperiale della Russia, che ancora c'è, ha una prospettiva solo se ha una proiezione marittima. E quindi trasferisce la sede da Mosca a Pietroburgo. Vabbè, per capriccio. Purtroppo la Russia, purtroppo per loro, per fortuna per noi, ci sono alcuni paesi che, diciamo, hanno proprio dei limiti fisici. La Russia ha dei limiti fisici a nord perché fa freddo, perché il Baltico è un Mediterraneo piccolo, o perché il Mar Nero è chiuso. E quindi c'è un problema. Noi invece abbiamo un vantaggio, che siamo proiettati, siamo di fatti un'isola, ieri si diceva un'isola attaccata con un po' di montagne, siamo completamente, diciamo, circondati dal mare, eppure, come dire, il nostro peso economico nel mare è basso. Ieri si diceva, qualcuno diceva che il mare è il nostro daimon, in termine greco. E il daimon è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti. In greco antico, felicità, si usa il termine eudomonia. Cioè, quando tu riesci a dominare i tuoi demoni, li rendi buoni, li controlli. Ecco, l'Italia, e io direi, nell'accezione più ampia, il Mediterraneo, riuscirà a raggiungere la felicità, l'eudomonia, se riusciremo a recuperare questa nostra dimensione marittima. Se coglieremo la sfida del mare, vuol dire, a pieno. Ieri si ricordavano due dati molto interessanti, che mi hanno colpito, oltre alla ricerca che ha fatto l'Istituto Piepoli, che poi è stata presentata in modo molto efficace, che ci dimostra quanto ancora il richiamo di Roma è fortissimo, ancora il prestigio e, come dire, molte civiltà, molte popolazioni guardano a Roma ancora con ammirazione, con interesse. Noi queste state sono romanista, come sicuramente la stragrande maggioranza di voi. Noi queste state abbiamo comprato un giocatore, no? Che si chiama Lukaku, di cognome. Di Roma si chiama Romelu, cioè Romolo. Cioè, per quale motivo una famiglia belga, di origine africana, chiama il figlio Romolo, lo puoi capire solo se capisci quanto ancora il valore di Roma è alto, è forte nel mondo. Noi ieri abbiamo visto una ricerca che ha fatto l'Istituto Piepoli, che ancora ha un richiamo fortissimo, in particolare per tutta l'area del sud del Mediterraneo. In questo momento il Mediterraneo sono circa 500 milioni di persone, che non è poco. Due terzi stanno al sud. Nel 1950 era 50 e 50, anzi forse un po' più a nord, nell'Europa ricca, e un po' meno nel bacino, diciamo, sud, quello africano e asiatico. Tra 50 anni sarà esattamente il contrario, praticamente un quinto della popolazione mediterranea sarà collocata nella parte meridionale del Mediterraneo e soltanto un quinto nella parte nord, nella parte ricca dell'Europa. In questa grande area geografica ed economica, che diventa sempre più rilevante dal punto di vista strategico, e oggi lo vedremo con gli ospiti del nostro dibattito, l'Italia può svolgere un ruolo importante, di snodo. Pensate soltanto al tema dell'energia. Praticamente passa tutto per l'Italia. Questi grandi gasdotti, questi grandi, diciamo, ieri li chiamavamo tubi, che attraversano, che collegano il nord al sud, l'est all'ovest, il gas che viene dall'Azerbaijan passa per l'Italia, il gas che viene dall'Algeria passa per l'Italia, dal nord dell'Africa passa per l'Italia, di fronte all'Egitto una nostra società, l'ENI, ha trovato un giacimento di idrocarburi enorme, ce n'è un altro di fronte al Libano, che l'hanno richiamato, ribattezzato Leviathan, nome un po' che, diciamo, renderanno sempre più l'Italia strategica come hub nella distribuzione dell'energia. l'energia è uno dei temi fondamentali del nostro futuro prossimo. Ma non è solo questo. Cioè, passa tutto, diciamo, noi siamo uno snodo fondamentale nel futuro del nostro Paese. E allora, come cogliere al meglio questa nostra possibilità? Allora, in questo momento l'economia, il peso del mare, della filiera del mare, nell'economia italiana, pesa sul PIL il poco meno del 10%. Non è molto. Non è poco. Ma non è molto. In termini assoluti, quasi un milione di occupati lavorano nella filiera e nella sua accessione è più ampia. Se noi però, lo ricordavamo ieri, non mi ricordo l'intervento di chi, credo di Giuseppe Tripoli, la Germania, che pure non è un Paese che come noi ha immerso nell'acqua, ha, come occupati, quasi il triplo. E come, in termini occupati, di PIL sfiora il 20%, la parte che riguarda la filiera del mare. Quindi, questo è un dato, come dire, negativo ma anche positivo, nel senso che abbiamo dei margini di crescita impressionanti. Li dobbiamo però cogliere. Li dobbiamo cogliere come sistema Paese, li dobbiamo cogliere facendo leva sulle nostre competenze, le nostre capacità. Oggi parleremo con delle imprese che appunto rappresentano anche fisicamente questa nostra capacità, questo nostro saper fare. Noi abbiamo le competenze tecnologiche per costruire i gasdotti, soprattutto sottomarini. Siamo in grado, dove non passano, ma passano anche le informazioni, anche i dati su internet, i dati che voi utilizzate sui telefonini, se ci tagliano un po' di quei cavi che collegano i continenti, che passano sott'acqua, le telefonine non funzionano più, anche le diate. Quindi il controllo del mare è sempre più strategico e verrà sempre più conteso. Abbiamo le competenze militari, abbiamo le capacità professionali, e ieri si ricordava che nei porti non lavorano più quelli che, come dire, non ci sono più, ci sono ancora, le manovalanze di bassissimo livello, che quando scaricavano il carbone erano tutti neri e quando scaricavano la farina erano tutti bianchi. Oggi ci sono dei veri e propri professionisti preparati, come dire, con delle competenze elevatissime, a volte dei veri e propri ingegneri, per sapere, come dire, spostare i container da un'altezza variabile tra i 60 e i 70 metri d'altezza, richiede, diciamo, delle competenze tecniche, assolutamente, delle conoscenze in termini di sicurezza che, come dire, dei professionisti di altissimo livello. Quindi il mare è anche, lo dico guardando i ragazzi che sono qui, anche una straordinaria occasione da punto di vista occupazionale e impreditoriale. Io mi fermo qui perché poi mi faccio prendere la mano e parlo molto. Do quindi subito la parola e la ringrazio alla nostra moderatrice che tra l'altro colgo anche l'occasione per ringraziare per la cortesia, per la gentilezza, la professionalità. Direi che questo è il numero zero. Siamo d'accordo su questo. Come tutti i numeri zero potrà andare bene, potrà andare male. Secondo me però sta andando bene. Poi ce lo dirà oggi il Presidente quando farà le conclusioni. Per me è un piacere aprire questa seconda giornata. Buon lavoro e un applauso a tutti. Grazie.